Sentivo che c'era un'area diversa, comunque giocare una finale è diverso che giocare le partite di campionato della domenica. Però ci ho sempre creduto perché noi in Coppa siamo sempre stati diversi da quelli del campionato. Sapevamo che potevamo entrare nella storia, potevamo riscattare una stagione fin qui deludente e quindi per me abbiamo fatto una partita incredibile. Sul gol sono stato fortunato perché io ho messo la gamba e la palla mi è spattuta sul ginocchio. Credo che c'è un dio del calcio che alla fine quando devi raccogliere i frutti con gli interessi ti torna tutto se lavori e ti comporti bene.